Ringrazio molto l'ISPI e l'OIAI, i Presidenti e Ambasciatori Aragona e Negli Feroci, mi rallegro per la sua recente nomina. Mi congratulo in particolare con Alessandro Colombo e con Ettore Greco per l'annuario che hanno prodotto e offerto oggi al dibattito. Ho sempre pensato che gli annuari fossero cosa destinata a diventare polverosa e ad accrescere la propria utilità al passare del tempo, quasi avendo utilità solo al passare di molto tempo e che fossero uno strumento più adatto agli storici che ad animare dibattiti in tempo reale. Questo pomeriggio sta dimostrando che mi sbagliavo. Questo dibattito in più avviene in un luogo che mi riporta alla nascita, alla nascita del governo che ho avuto l'onore di guidare. Nella stanza lì accanto, nel novembre 2011, ho svolto, grazie all'ospitalità del Presidente Schifani, le consultazioni. Qui mi affacciavo in genere alla fine di ogni mezza giornata per aggiornare la stampa sull'andamento delle consultazioni. Ricordo per esempio nitidamente il momento in cui con sincero rammarico comunicai che i tre partiti o poli della neomaggioranza non avevano accolto la mia proposta insistente che del governo facessero parte anche personalità politiche espresse dai partiti. Questa sera, ascoltando le cose che sono state scritte e poi dette e arricchite da testimonianze di grandi personalità della politica estera, sul mio governo ho quasi l'impressione di non dovermi rammaricare troppo che in quella stanza sia nato un governo e non è un convincimento molto diffuso in questi ultimi mesi e sono stato molto fortunato di aver portato mia moglie a questo e non ad altri dibattiti. E in più io ho iniziato questa esperienza di governo come Presidente del Consiglio e Ministro dell'Economia e delle Finanze e ho terminato questa esperienza di governo come Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri, quindi ho avuto modo di spaziare e se la politica estera europea ed estera dell'Italia è stata oggetto di benevola, sia pure con luce ed ombre considerazioni questa sera, ecco io ho il dovere di sottolineare che probabilmente non esiste un altra cosa così collettiva e collegiale come questa, perché se io penso ai momenti cruciali della mia politica estera ed europea non posso non pensare al ruolo che il Presidente Napolitano, grande conoscitore e appassionato cultore di politica estera ed europea in particolare ha avuto. Ricordo per esempio un momento che non mi sembra sia stato ricordato qui questa sera, forse anche perché sono arrivato un po' in ritardo e me ne scuso, ma la difficilissima decisione sul voto da esprimere all'Assemblea Generale dell'ONU sul riconoscimento o meno della Palestina come osservatore, dell'autorità palestinese come osservatore. Mi è stata molto di conforto anche lì la possibilità di consultare il Capo dello Stato, il quale ha sottolineato con rigoroso rispetto delle proprie competenze che la decisione spettava al Governo ed è il Governo e il Presidente del Consiglio che l'hanno presa, ma con il grandissimo input di una visione di quella esperienza e di quel livello. Poi ho avuto evidentemente modo di, anche nel periodo in cui ero Presidente del Consiglio e non Ministro degli Esteri, cosa che poi sono diventato per un piccolo incidente della storia, come sapete, ho avuto il piacere di vedere, ma già la conoscevo da altri punti di osservazione, la grande qualità della diplomazia italiana. E per quanto riguarda la politica europea, in particolare il Ministro Moavero ha dato un contributo essenziale, ma l'ambasciatore Nelly Feroci è stato veramente al centro e mi ha fatto molto piacere che lui sia diventato Presidente dell'OIAI in tempo per essere qui questa sera e così posso ricambiare una per una le parole molto gentili e amabili che lui ha detto su di me. Ma è veramente un collettivo la politica estera? Per esempio, faccio solo due nomi dei miei ministri che hanno dato contributi senza i quali non avremmo potuto presentarci in Europa. Il Ministro Grilli, che come ogni eccellente Ministro dell'Economia e delle Finanze ha mietuto quasi esclusivamente antipatie, perché ha fatto molto bene il suo lavoro. O il Ministro Fornero, la cui azione è stata molto apprezzata prima all'estero che in Italia. E siamo tutti consapevoli di avere imposto molti sacrifici agli italiani, ma non potevamo fare diversamente. E sono grato al Presidente Letta per avere questa mattina in una intervista con una semplice frase detto tutto da questo punto di vista. Il Vice Ministro Pistelli ha chiarito con la logica e ha dipanato i diversi elementi della situazione difficile in cui ci trovavamo all'inizio, quando ha detto che bisognava contemporaneamente fare i compiti a casa, è abbastanza svelto da dimostrare che li stavamo facendo bene, e anche però l'ambizione, la necessità di sopravvivenza, aggiungerei io, di cambiare l'agenda europea abbastanza rapidamente. E il tutto senza tendere la mano. Circa i prestiti di salvataggio, i programmi di salvataggio, è stato detto che abbiamo cercato di evitare di fare uso di programmi di salvataggio. Io vorrei dire solo due cose al riguardo. Una, non è stato facile evitare quei programmi di salvataggio, né dal lato dell'offerta né dal lato della domanda. Perché erano i grandi d'Europa e i grandi dei mercati che tendevano a noi la mano, non ancora piena di denaro, ma con una carezza tendente a persuadere. Cioè, ma è ben sicuro lei di voler fare senza una richiesta di programma di salvataggio. Saremmo tutti così più tranquilli, ma anche lei lo sarebbe vero, se l'Italia fosse, diciamo, ingabbiata e sostenuta in un modo da non poter accendere il fiammifero che era in mano italiane per un incendio fondamentale nell'Eurozone. e dal lato della domanda vi assicuro che quella è stata probabilmente la decisione più difficile perché bisognava rinunciare ad una decisiva polizza di assicurazione che però ci comportava la consapevolezza, almeno io ero convinto, che gli italiani avrebbero male reagito ad una forma quasi coloniale di gestione della politica economica. Gli italiani amano la volontaria e simmetrica cessione di dosi di sovranità all'Unione Europea, ma io sono sicuro che gli italiani non avrebbero amato la forzata e asimmetrica cessione di sovranità che una troica installata nella capitale nazionale comporta. Ettore Greco ha detto che, credo sia stato Greco, sì, che ci siamo spinti a minacciare il veto. No, siamo andati oltre perché abbiamo utilizzato il veto. Cioè nel Consiglio Europeo del 28-29 giugno del 2012, che aveva due componenti, una a 27 sul Growth Pact e poi l'Eurosummit a 17 per cercare di stabilizzare i mercati, al termine di due ore di semplicissima discussione, perché tutti eravamo a quel punto favorevoli al Growth Pact, il Presidente Marron poi ha detto, va bene, allora prendo atto dell'accordo, vado in conferenza stampa ad annunciarlo. E io ho dovuto alzare la mano e dire che l'Italia opponeva il veto. La Spagna mi ha seguito, la Francia ha detto, non ha unito il suo veto a quello di Italia e Spagna, ma non ce n'era bisogno perché ne basta uno di veto, e ha detto che poteva ben capire le ragioni dell'Italia. E il veto italiano al Growth Compact è stato tolto solo la mattina successiva. Mi è molto spiaciuto per i capi di governo dei paesi non membri dell'euro che hanno dovuto passare una notte in più a Bruxelles, che noi paesi membri dell'euro abbiamo passato a lavorare per avere l'accordo sul meccanismo antispread, ma il giorno dopo l'Italia e la Spagna hanno tolto il veto e quindi è stato adottato un tutt'uno comprendente sia il Growth Pact, sia il lancio dell'Unione Bancaria, sia il meccanismo di stabilità. L'Onorevole Presidente Cicchitto ha fatto molto bene, credo, a ricordare l'episodio del 2003, perché abbiamo sempre sostenuto anche noi che non sono stati i paesi mediterranei, non è stata la Grecia a intaccare per prima la credibilità del patto di stabilità. Sono state la Francia e la Germania nel 2003. Aggiungerei con una certa complicità dell'Italia che presiedeva l'Unione Europea in quel periodo e da allora sono stati necessari molti anni, molti pacchetti ulteriori di misure per recuperare credibilità al patto di stabilità. Vorrei concludere con una osservazione su quello che credo si possa chiamare il soft power dell'Italia. Naturalmente ho ascoltato con particolare intensità da allievo nei confronti del maestro tutto quello che ha detto il Ministro Frattini e l'importanza delle reti per l'Italia, l'importanza del valore dell'italianità come si manifesta in tantissimi campi morbidi ma essenziali e il cui valore relativo rispetto alle cose dure aumenta in questa fase che Fukuyama chiamerebbe il riinizio della storia probabilmente e credo che per l'Italia veramente questa sia una grandissima risorsa, spendibile in tutte le direzioni a cominciare da quella europea ma non solo e in fondo io credo che Monica Maggioni converrebbe nel dire che quella capacità di capire e spiegare la complessità, che per esempio spesso gli americani hanno dimostrato di non avere, appiattiti su giudizi di valore molto più semplici e molto meno a colori ma in bianco e nero, quella capacità di spiegare la complessità è una leva credo molto molto importante per l'Italia. Io veramente nel piccolo della mia esperienza l'ho visto, è stato citato il rapporto col Presidente Obama ma la mia storia di un anno e mezzo con Obama è cominciata al primo incontro quando lui mi ha detto, dicono che tu ti trovi bene con la signora Merkel anche se ogni tanto non avete le stesse idee, spiegami come si fa a capirla e a smuoverla. La complessità, come prendere il tema della crescita per orecchie tedesche, non è una cosa che necessariamente gli americani sanno, noi l'abbiamo imparata nel corso degli anni e la capacità di persuadere, secondo me non so se gli esperti di politica estera converranno ma la politica estera non solo, la politica europea in particolare, non solo è politica interna per l'Italia ma io vorrei dire, o perlomeno così ho inteso il mio impegno molto diretto sulla politica europea dell'Italia, è anche politica interna degli altri paesi. Cioè troppe volte mi sono sentito dire al Consiglio europeo, in particolare da voci tedesche, olandesi, finlandesi, non posso perché il mio Parlamento non l'autorizzerebbe. Allora, anzitutto abbiamo fatto in modo che anche loro sapessero che l'Italia ha un Parlamento e noi sappiamo bene che c'è e questa prassi ormai instaurata di presenze del governo prima e dopo il Consiglio europeo, eccetera, mira anche a rendere più esigente la constituency nazionale e opponibile questa maggiore esigenza della constituency nazionale del piano europeo. E poi però implica anche dover andare ad influenzare direttamente l'opinione pubblica in quei paesi la cui opinione pubblica condiziona i rispettivi governi in un senso che non ci è favorevole. Per cui io so che molti italiani hanno trovato strano che io andassi in momenti tesi della vita economica e politica italiana a Helsinki e che incontrassi non solo il giovane e brillante primo ministro Katainen che alla conferenza stampa finale ha dato atto di aver capito che effettivamente se c'è un problema di spread eccessivo per quei paesi che pure stanno facendo le cose che l'Europa raccomanda, allora vuol dire anche che c'è un problema sistemico e quindi ci vuole anche un intervento come quello benedetto a fine giugno del 2012, ma anche al Parlamento finlandese. Per spiegare per esempio, ma non avete idea di quanto è difficile spiegare l'evidenza, che l'Italia non è un paese debitore, non ha preso un euro a prestito da nessuno, ma l'Italia deve essere un paese debitore, come è possibile che non lo sia. Oppure cercare di spiegare meglio in Germania perché sbagliamo noi mediterranei a chiamare solidarietà, continuamente solidarietà, facendo appello alla solidarietà, cose, politiche, atti che sarebbero semplicemente una attuazione di una visione di illuminato egoismo, di enlightened self-interest da parte della Germania. Bene, io concludo dicendo che sono anzitutto molto rasserenato dopo aver visto durante la campagna elettorale prossima al crollo la situazione italiana nei confronti dell'Unione Europea. Penso che tutti fossimo molto preoccupati, tutti quelli che sono qui radunati da questo aspetto e non avrei osato sognare un governo a presidenza Enrico Letta, di nuovo con una grande coalizione e che in tema europeo, speriamo di riforme strutturali, la rimane ancora da vedere, ma certamente in tema europeo è di una grandissima affidabilità e continuità, come Presidente del Consiglio e ovviamente come Ministro degli Esteri Emma Bonino. E credo che il ruolo per l'Italia nel secernere il proprio soft power in campo europeo in questa fase storica, io l'ho vissuto così e l'ho anche suggerito al Presidente Letta nel nostro primo incontro a Palazzo Chigi, suo luogo di lavoro, è quello di essere sempre nella costruzione di ponti, ponte tra il nord e il sud, perché a questo punto l'Italia ha le carte in regola, la credibilità sufficiente per poter dire alla Germania io aiuto i paesi del sud a cominciare dalla Francia, che è molto in ritardo su alcune di queste cose, a capire il merito della disciplina di bilancio e delle riforme strutturali. Ma tu però Germania e voi paesi del nord, prestate più attenzione al sud Europa, che come vedete sa fare le politiche per mettersi in ordine e per non pesare su di voi, però richiede che voi non ostacoliate politiche non creatrici di inflazione, non creatrici di disavanzo pubblico per facilitare una maggiore crescita in Europa e in Europa del sud in particolare. Grazie mille.